L'obiettivo dei sindaci dell'Agro è quello di far mantenere gli impegni presi dal presidente De Luca e di portare a Dea di secondo livello gli ospedali di Nocele Inferiore, Pagani e Scafati. Un impegno preso qualche settimana fa a Napoli nel corso di un incontro tenuto sia a Palazzo Santa Lucia e dove erano presenti, oltre al sindaco di Pagani Bottone, quello di Nocele Superiore, Cuofano e il delegato del comune di Nocele Inferiore, Paolo De Maio. Con reparti che tranquillamente rientrano tra le strutture previste dal Deo di secondo livello, gli attuali amministratori puntano a rilanciare le rispettive strutture sanitarie che il nuovo piano ospedaliero non ha riconosciuto ma sicuramente di livello superiore al primo livello. Sostenere la delibera è quanto chiedono i sindaci e anche agli altri primi cittadini del territorio per dare maggiore forza al territorio affinché il governatore della campagna decida una volta per tutta di elevare a Dea di secondo livello l'Uberto I di Nocele Inferiore, il Tortola di Pagani ed il Mauro Scarlato di Scafati. Ci stiamo adoperando per poter sostenere le attività dell'ospedale di Pagani con l'ospedale di Nocera e quello di Scafati. Sono già intervenuto direttamente presso il presidente De Luca per poter sostenere quelle che sono poi le posizioni anche degli altri colleghi. In sostanza noi avevamo richiesto perché all'interno del piano ospedaliero, ecco visto che lo stesso presidente De Luca aveva annunciato la nascita dei De di secondo livello tra Pagani, Nocera Inferiore e Scafati e poi ecco dal piano ospedaliero non c'è stato questo passaggio da Dea di primo livello a Dea di secondo livello. Noi riteniamo che questa attenzione vada mantenuta e che le prerogative perché queste tre strutture possano, in base a quelle che sono i risultati, in base a quelle che sono le prestazioni, in base a quelle che è la professionalità messa in campo all'interno di questi tre nosocomi si possa addivenire da qui a breve ad avere idea di secondo livello. Ma questo è un lavoro che va fatto in sinergia con la regione ma ritengo che è un dato importante che vada sancito e riconosciuto all'ospedale di Pagani, quindi all'Andrea Tortora, all'Umberto I di Nocera e all'ospedale di Scafati vada riconosciuto quelle che sono poi l'operatività, quelle che sono le professionalità, quelle che sono i reparti che portano queste strutture ad essere così efficienti. In merito d'aldea di secondo livello la nostra amministrazione comunale ha dato sostegno alla proposta che è venuta dal comune di Nocera Inferiore ma prendiamo anche atto delle richieste che abbiamo avanzato alla regione rispetto alle quali attendiamo una risposta più concreta che a quanto pare è stata recepita e riguardavano sia il tema assunzionale, quindi assunzioni per il presidio ospedaliero di Nocera Inferiore sia quanto riguarda l'organizzazione e la conservazione dei reparti che attualmente insistono presso l'ospedale di Nocera Inferiore.